Sono Iuri Pastore Corrado, sono il gestore del Mamita e dei Bagni Egipsi. Come vedete la spiaggia è già attrezzata, l'abbiamo attrezzata, era già attrezzata prima con dei gazebi. In realtà noi eravamo a norma già prima, ma quest'anno abbiamo deciso, soprattutto da questa parte, di allargare ulteriormente nella speranza di poter accogliere il prima possibile tutti i turisti che arriveranno. Vediamo l'ora di poter restituire una vita normale a tutti e una vacanza normale qua a Loano, lo speriamo. Li accogliamo tutti, come sempre, a braccia aperte. Sarà l'estate del riscatto, l'estate della felicità e penso che tutti daranno il meglio di loro e chi verrà giù quest'estate avrà voglia sicuramente di stare bene, questa è una certezza. Quindi anche da parte nostra, da noi che dobbiamo dare il servizio, penso che lavoreremo più serenamente perché abbiamo la certezza che chi viene, viene perché ha voglia di vivere, ha voglia di essere libero e di godersi il mare. Per noi personalmente non è cambiato molto, la normativa ovviamente incide tanto su quello che è il servizio di ristorazione, di bar e di cocktail bar. In questo modo abbiamo, grazie a Dio, noi abbiamo molto spazio, quindi abbiamo eliminato sì qualche tavolo ma non cambia molto. Non faremo servizio all'interno del locale, impedendo quindi qualunque tipo di assembramento, daremo servizio all'ombrellone e daremo esclusivamente servizio d'asporto. Non ci sarà servizio al banco di nessun tipo. Questo appunto per evitare l'assembramento tra i clienti che verranno per prendere il posto in spiaggia e quelli che vorranno consumare al bar. Si calcola che in un comune come lo hanno ci saranno all'incirca almeno tra i 600 e gli 800 ombrelloni in meno in tutto il comune. Questo sarà veramente un problema perché molti scenderanno e quindi ci sarà un eccesso di domanda a fronte di purtroppo una parte davvero ridotta rispetto agli anni scorsi di offerta. Questa sarà la difficoltà più grande che incontreremo noi, gestori, sia di ristoranti che di stabilimenti balneari. Dovremo purtroppo scontentare molte persone che non troveranno un posto in spiaggia. Questo purtroppo sì. Questo sarà il problema più grande. Gestire gli afflussi e gli assembramenti di clienti che cercheranno un posto e purtroppo non lo troveranno, almeno per quest'anno.